È molto importante che l'imprenditore si concentri su quella che è la formulazione del prezzo di vendita, che deve ovviamente essere calcolata considerando un margine regolarmente acquisibile rispetto alla sommatoria dei costi, che non sono solamente i costi di materia prima, ma sono i costi del lavoro, i costi dell'affitto e tutto quello che giri intorno al prodotto. Normalmente l'imprenditore italiano spia la concorrenza per vedere quali sono i prezzi di vendita e da lì decide se fare un Euro in meno o un Euro in più. L'imprenditore italiano dovrebbe invece intraprendere un percorso culturale che insegna a lui attraverso degli strumenti semplici e operativi come formulare il prezzo di vendita, evitando quelle insidie che secondo i dati delle Camere di Commercio portano molte imprese già dopo il secondo anno di vita a chiudere l'attività. La piccola ma complessa filiera alimentare e gestionale che si svolge dentro un'attività ristorativa, bar o ristorante che sia, necessita di essere approcciata con un metodo concreto ma efficace, a cominciare dalla scelta dei fornitori e dalla gestione dell'approvvigionamento, quella che volgarmente viene detta la gestione del magazzino. Un magazzino efficace ed efficiente è un magazzino che si sviluppa sul principio del vuoto pieno, vuoto pieno. I costi di magazzino sono costi di immobilizzo, nessuno li paga, neanche il cliente, quindi un consiglio a dare agli imprenditori è di non farsi abbindolare da offerte speciali di 30 casse di vino quando normalmente la gestione ne accetta una o due al giorno. Il messaggio che noi vogliamo dare è grande attenzione ai costi e a una gestione sostenibile che permetta successo all'impresa e non certo chiudere dopo il secondo anno di attività. Durante questi brevi flash possiamo dare solamente delle piccole indicazioni, delle piccole provocazioni che permettono all'imprenditore di intraprendere una strada culturale. La formazione e l'addestramento del titolare insieme a quella dei propri responsabili e collaboratori è uno a nostro parere degli ingredienti fondamentali per il successo e duraturo dell'impresa.